Il territorio del Piemonte affascina per la sua varietà di panorami, dai suggestivi ghiacciai delle montagne alle grandi vallate dove si susseguono specchi d'acqua e risaie, lunghi filari di alberi e verdi e incantevoli pianure. E proprio dove la natura offre il meglio di sé, anche l'operosità dell'uomo è capace di produrre eccellenze mondiali in ogni settore. Nell'industria meccanizzata in particolare, saper fare e innovazione si uniscono perfettamente per dare vita a prodotti di altissima qualità, con un design in stile tutto italiano. Anche questa società, nei suoi 130 anni di esperienza, si è impegnata a ricercare e studiare nuovi prodotti, in grado allo stesso tempo di assecondare le necessità pratiche del loro utilizzo e di appagare il gusto moderno. Un impegno costante che consente di rimanere al passo con i tempi e creare oggetti di un valore talmente alto da essere riconosciuto in tutto il mondo. In questo stabilimento, tutta la produzione si compie dall'inizio alla fine nella stessa fabbrica. Un caso piuttosto raro, considerato che molte aziende occidentali, oggi, tendono a commissionare ad altre strutture parti della lavorazione. Qui, tutte le fasi sono gestite quasi completamente dalle macchine, che danno vita a oggetti di grande eccellenza e dal design raffinato. Tutto nasce da zero, compresa la fusione dei metalli, che avviene internamente grazie a una fonderia estremamente all'avanguardia. Per essere realtà di successo e punto di riferimento nel proprio settore, bisogna avere lungimiranza, tenacia, innovazione, stile e negli ultimi anni occorre farlo con grande rispetto per l'ambiente. Questo stabilimento, nel territorio del Piemonte, è un esempio di fabbrica a impatto zero, perché opera salvaguardando la natura e sfruttando le cosiddette energie rinnovabili. I pannelli fotovoltaici che ricoprono i tetti dello stabilimento producono energia in maniera naturale e abbattono i consumi energetici dell'azienda, che diventa così un centro produttivo unico nel suo genere, una vera e propria fabbrica ecologica. Ed è proprio da questo senso di responsabilità, che vuole ridurre al minimo i processi che causano l'alterazione dell'ambiente, che vengono realizzati strumenti capaci di salvaguardare le risorse del pianeta. Strumenti che aiutano il consumatore a risparmiare ogni giorno acqua ed energia, perché un prodotto pensato per migliorare la qualità della vita non può nascere peggiorando il mondo in cui viviamo. Un prodotto ideato, progettato e realizzato secondo il grande talento e la lunga tradizione del territorio, per ottenere la massima affidabilità, sicurezza e precisione. Perché è attraverso questo impegno e i rigorosi controlli che si garantisce l'alta qualità e il valore autentico del prodotto made in Italy, firma inconfundibile nel mondo. Tradizione, ricerca, passione. Sono questi i valori a cui le aziende italiane si ispirano ogni giorno per trasformare prodotti di uso quotidiano in capolavori di eccellenza mondiale.